Il progetto è stato ideato all'incirca un anno fa, verso la fine di aprile, quindi al termine della prima fase di lockdown e come punti focali diciamo si concentra su due aspetti in particolare, cioè il primo è una sorta di reazione a una condizione nella quale eravamo tutti quanti alle prese forse per la prima volta veramente nella nostra vita, cioè una condizione di solitudine molto forte, lo slegarsi di un contesto sociale e teatrale nel nostro campo specifico. Ci sentivamo tutti molto soli, ognuno nella propria stanza o nel proprio nucleo familiare e staccati dalle altre persone. Infatti uno dei punti cardine di questo progetto è senza ombra di dubbio il fatto che è un lavoro d'equipe, d'esquadra, cinque persone che si riuniscono insieme e lavorano. Rispetto a questo gruppo e alla sua composizione è volutamente molto variegata perché abbiamo un dramaturge che sono io in questo caso, che coordina tutto il progetto, due drammaturghi giovani, Tatiana Motta e Tommaso Fermariello, entrambi nel 2019 premiati con il massimo riconoscimento come premio in Italia di drammaturgia, cioè il premio Riccione Teatro, e due registi, Francesca Macri per la compagnia Biancofango e Alessandro Businaro che di recente, l'anno scorso, sono stati entrambi invitati al Biennale Teatro di Venezia 2020. Nel caso di registi poi è singolare anche la diversità dei loro percorsi e anche della loro età, perché Francesca Macri e Biancofango sono una realtà solida ormai che lavora da 15 anni, mentre Businaro è un regista giovane che si sta ritagliando il suo spazio all'interno del panorama teatrale, e quindi avere anche qui due identità differenti ci sembrava potesse essere la buona base per un dialogo. Il titolo Orizzonte Postumo, secondo me, ha un carattere particolare che lo rende significativo, cioè molto, come dire, evocativo, perché al suo interno è composto da due parole che hanno un'ampia gamma di significati, significati che delle volte si possono contraddire o essere ambigui o sembrare strani messi assieme. Per esempio, se pensiamo alla parola postumo, la prima cosa che ci viene in mente è senza ombre di dubbio la morte, quindi un evento possiamo dire così negativo, ma a fare da controaltare questo aspetto all'interno del termine postumo c'è il fatto che di questo evento negativo, di questo trauma, viene evidenziata la parte positiva in un certo senso, cioè ciò che resta, ciò che permane dopo un trauma, un evento luttuoso o comunque un forte evento di cesura. Per quanto riguarda l'orizzonte, invece, andando al di là, insomma, del significato primario, quindi quello di orizzonte atmosferico, diciamo, della linea dell'orizzonte, c'è anche il significato che fa riferimento alla mentalità, allo stile del pensiero di una persona, cioè l'orizzonte di pensiero, e entrambi questi aspetti suggeriscono una sensazione di apertura, di spazio, che va in controtendenza, se vogliamo, rispetto alla chiusura mentale e fisica anche, che ci accompagna, si inghiozzano da ormai un anno a questa parte, e nella quale oltretutto siamo attualmente, nella quale siamo attualmente invischiati. L'altro punto cardine del progetto è, diciamo, la possibilità di inserire in maniera preventiva, all'interno proprio dello sviluppo del progetto, una fase dedicata esclusivamente alla ricerca del tema, cioè di che cosa, in questo momento, mettendoci in ascolto l'uno dell'altro, sentiamo di dover parlare. Infatti nella prima fase del lavoro, che è cominciata a dicembre, abbiamo avuto lunghe sessioni di discussione in cui sono state messe in campo idee, progetti, suggestioni, immagini, pezzi di libri, pezzi giornalistici. Insomma, a partire da questa grande mole di discussione, poi personalmente dovendo trarre, diciamo, una sintesi, cercando quindi di capire quali fossero, o meglio, quale fosse la rete sotterranea che univa tutti questi aspetti, mi pare di aver individuato, appunto, due di questi temi sui quali noi continuavamo a girare attorno, magari in maniera diversa, con termini diversi, ma che in realtà finivano sempre, diciamo, in due punti. E sono, appunto, il tema del desiderio e il tema della morte. Dopo la prima fase il lavoro dell'equipe si è ripartito, diciamo, ha preso due strade diverse, due strade diverse che però allo stesso tempo ovviamente corrono parallele, una a fianco all'altra. Infatti Tatiana Motta e Francesca Macri e Bianco Fango si occuperanno di un prodotto artistico in formato video che, appunto, indagherà il tema del desiderio e quindi tutte le domande che questa tematica suscita oggi, appunto, in maniera particolare e in un tempo in cui la sospensione del desiderio sembra essere ovunque. Dall'altra parte, invece, ci saranno Tommaso Fermariello e Alessandro Gusinaro che invece andranno verso un, come prodotto finale, verso uno spettacolo dal vivo, in presenza. Anche, se vogliamo, la scelta di un prodotto video e un prodotto dal vivo, in presenza, ci sembra che sia un'alternanza necessaria, ecco, anche rispetto a quelle che sono le condizioni del presente. visto che lo spettacolo non dal vivo, ma attraverso dei video, è diventato una realtà con la quale, in una maniera o nell'altra, bisogna, in un certo senso, fare i conti. Fare i conti al di là dei giudizi che si possono avere rispetto a questa formula, ma, appunto, al di là di questi giudizi, intendendolo come uno spazio di ricerca, fondamentalmente. Per ritornare all'inizio di questo percorso, ricorderei l'immagine dalla quale siamo partiti, che è legata a uno dei termini, o meglio, dei significati del termine postumo, che è il significato fisiologico, che è, appunto, quello dell'immagine che rimane impressa sulla retina dopo uno shock visivo. Ecco, incontrandoci a dicembre, la prima cosa che ci siamo chiesti è, nei nostri occhi, in questo momento, che immagini ci sono?